Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Si ricorda che la statale 223 di Paganico è chiusa per circa un chilometro e mezzo in direzione Grosseto nei pressi di Campagnatico a causa di uno smottamento. Per quanto riguarda i lavori notturni, stanotte in A1 in orario 22.6 stracchiuso il tratto tra Incisa-Reggello e Valdarno in entrambe le direzioni. In contemporanea in A11 per consentire lavori di pavimentazione è chiuso lo svincolo di Pistoia in entrata in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!